Bentornati su MyFootballGersey. Continuiamo a vedere le maglie delle squadre dei prossimi mondiali e quindi vediamo la prima maglia della Francia in edizione player, la maglia indossata dei calciatori e d'Abbapé. Le maglie da casa e da trasferta della Coppa del Mondo 2022 della Francia celebrano France Nouveau, Nuova Francia, combinando l'eredità e il futuro del paese. La maglia combina base blu navi con oro metallizzato per i loghi. Ufficialmente la colorazione è Midnight Navi Metallic Gold. È un'app straordinaria combinazione di colori per i campioni del mondo in carica. La caratteristica distintiva è il colletto che viene fornito con un sottile bottone sul davanti. In termini design, la maglia ha un look sobrio, a parte un motivo sottile, sui polsini delle maniche e sul colletto. Il motivo include foglie di quercia e rami di olivo per indicare forza, solidarietà e pace. Questa maglia è molto semplice, blu tinta unita, ma devo dire la verità che con queste rifiniture in oro acquista quel che in più che a me piace molto. Nella mia classifica prende quattro stelle, è una maglia fatta molto bene, con tutte le rifiniture giuste e peraltro nella versione player ha un tessuto veramente fantastico. Qui in alto vedete il costo che per una maglia così bella e con dei tempi di spedizione così veloce è veramente bassissimo. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità e le misure, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Lasciatemi anche nei commenti indicazioni su quali altre maglie vorreste vedere e un'opinione su questa. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.